Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Sori e nell'appuntamento con questo nuovissimo video. Oggi, come promesso, andremo a vedere tutti quelli che sono stati gli annunci fatti durante il corso del Comic-Con. Piccola precisazione, Planet Manga non ha fatto annunci, questo perché li farà più avanti. Tra 10-15 giorni, da quello che ha detto durante il corso di una live con Anime Click, dovrebbero arrivare alcuni annunci anche da parte loro. Però non disperiamoci, però gli annunci che sono stati fatti da tutte le altre case editrici sono abbastanza, c'è qualcosina interessante, qualcosina che personalmente ritenevo abbastanza evitabile, ma è normale che sia così in base ai nostri gusti. Prima di iniziare, come sempre, vi chiedo solo la cortesia di lasciare un like e un'iscrizione al canale. Per voi un gesto completamente gratuito, per me il supporto più grande che mi possiate dare. Ora andiamo con una brevissima sigla e poi case editrice per case editrice andiamo a scoprire quali saranno tutti i titoli che arriveranno prossimamente qua da noi in Italia. Ed anche per questo video, come siamo ormai abituati a fare, iniziamo da Star Comics, iniziamo in linea temporale e i quattro titoli annunciati durante il corso del primo giorno sono state due novità e due nuove edizioni. Iniziamo con la nuova edizione di Aria, definita The Masterpiece, una sorta di due in uno che comprenderà anche acqua, in pratica il sequel di Aria. Sarà appunto completa in questi sette volumi, erano dodici più due quelli della vecchia edizione, saranno sette quelli della nuova. Per chi ancora non conoscesse la storia, ci troviamo sul pianeta Marte, ma in un futuro che lo vede terraformato. Infatti le vicende si svolgeranno in una città definita Neo Venezia, andremo proprio a rivedere un pochettino la nostra città, la città italiana, una delle più famose del mondo, riviste in un futuro prossimo. Vediamo la nostra protagonista che dovrà intraprendere la carriera di Onda Ondine, ovvero sono le donne che sono incaricate di fare da guida turistica ai visitatori guidando le gondole. La precedente serie era ormai introvabile se non a prezzi abbastanza folli su alcuni siti di compravendita online, e quindi questo potrebbe essere sicuramente un ottimo modo per andare a recuperare questa serie. L'altra nuova edizione presentata da Star Comics invece ci porta ad un genere completamente diverso rispetto al precedente. Stiamo infatti parlando di Aula alla Deriva, di Carlo Humez, che dopo la maxi edizione in tre volumi che era stata edita da Ikari in Italia, i diritti sono passati in mano a Star Comics, la quale ci porterà in questo caso un'edizione apposta da una due in uno, una uno in due, infatti si sdoppierà, la nuova edizione sarà formata da sei volumi in tutto e andrà ad aggiungersi alla collana dell'Humez Collection, quindi con lo stesso formato degli altri volumi dello stesso autore, che sono già arrivati qua da noi in Italia. La storia vede una scuola elementare trasportata improvvisamente in un luogo sconosciuto, una sorta di deserto da incubo. Non si capirà bene se si tratta di un altro pianeta o di un'altra dimensione, comunque ovunque si trovi in questo momento quella scuola, l'unica cosa che preme sia agli studenti e sia agli insegnanti è quella di sopravvivere agli assalti di alcune creature decisamente terrificanti. Le due novità che invece ci sono state presentate nel corso del primo giorno di annunci riguardano entrambe One Piece, ed iniziamo con Episode A, il manga che vede, diciamo, protagonista Ace, l'abbiamo già visto la nove, l'arrivata in Italia, ma soprattutto che vede ai disegni un certo Boichi, e del quale comunque mi sono già gustato alcune tavole di questo manga attraverso gli Shonen Jump su cui è stato pubblicato. Ci porterà appunto alla scoperta del passato di Ace, dalla prima volta che prese il mare, fino all'ingresso nel nuovo mondo, e dal primo incontro con colui che successivamente riconoscerà come suo unico e vero padre, ovvero Barba Bianca. Una serie in soli due volumi che sicuramente è imperdibile per tutti gli amanti di One Piece e del disegno di Boichi, che garantirà una sorta di umanità maggiore a tutti i personaggi, con il suo tratto decisamente inconfondibile. L'ultimo titolo annunciato da Star invece ci riporta all'interno della cucina di Sanji, infatti dopo le ricette piratesche di Sanji, uscito qualche tempo fa sempre di Star, stavolta è stato annunciato Sanji's Food War, un volume unico, incentrato appunto sul cuoco dei Mugiwara, ed ambientato prima che andasse ad incontrare la ciurma. Ci troveremo davanti l'ego smisurato di Sanji quando si parla del cibo, ma soprattutto della sua cucina, e la sua più grande debolezza, ovvero le donne. Avremo infatti l'arrivo di una bellissima critica culinaria, che dovrà essere soddisfatta dal cuoco con delle portate degna di colui che sogna di diventare il miglior cuoco del mondo. Passiamo ora al secondo giorno di annunci, dove troviamo Marriage Toxic, una serie in quattro volumi ma ancora in corso, che ci porterà a scoprire la vita di un giovane sicario che si ritiene, almeno inizialmente, completamente estraneo alla vita matrimoniale. Per evitare l'estinzione del proprio clan, e soprattutto non volendo coinvolgere in questi affari la sorella minore, decide di accettare l'obbligo di trovare una moglie e di metter su famiglia. Non sapendo a chi rivolgersi, non è mai stato in quest'ambito molto bravo, non è molto esperto di vita matrimoniale, decide di mettersi in contatto con il bersaglio del suo ultimo incarico, un truffatore matrimoniale. Si tratta di uno shonen d'azione, ma soprattutto comedi, che ci proporrà svariate scene anche molto esilaranti. L'uscita è prevista per il prossimo inverno, ma sappiamo già che arriverà sia con un cofanetto, che sia con una variant dedicata al primo volume. Passiamo ora ad un altro shonen, ma più sentimentale e più slice of life. Si tratta di Shikimori's Not Just Acuti, e ci porterà nella scuola di Izumi, più precisamente all'interno della sua classe, la quale viene frequentata anche dalla sua fidanzata, Shikimori appunto. Una ragazza che si mostra sempre molto gentile, sorridente e carina con tutti, ma che ogni tanto riesce a sembrare anche un tantino intimidatoria. Riuscirà a risolvere qualsiasi problema coinvolga il ragazzo, il quale è un pochettino distratto, e gliene succedono un pochettino di tutti i colori. Abbastanza sfigatello questo personaggio, ma ci sarà lei dietro le spalle che riuscirà sempre a risolvere ogni problema in cui si va a cacciare. La serie è composta da un totale di 20 numeri, e debutterà in Italia il prossimo inverno. Non l'ho mai letto, ma secondo me ci sarà anche un pizzico di gelosia che farà da padrona all'interno di tutta la storia. Il prossimo titolo invece si tratta di uno Yuri, ovvero I'm in Love with the Villains. Cinque volumi, serie in corso, e questa volta si parla di un titolo che è tratto da una web novel. È una commedia drammatica che fin da subito però sfocerà nel fantasy, in quanto la nostra protagonista, Osashi Rei, è una normalissima impiegata che però andrà a risvegliarsi improvvisamente nel corpo della protagonista del suo videogioco preferito. Riesce anche ad incontrare in tempi relativamente brevi l'antagonista principale di tutto il gioco, nonché il suo personaggio preferito, ovvero Claire, della quale forse prova un qualcosa di più reale di quanto potrebbe sembrare vista semplicemente che su uno schermo piatto e quindi in 2D. Questa serie a livello di trama mi ricorda tantissimo un Boys Love annunciato da Goen non molto tempo fa. È la stessa identica trama praticamente, ma al posto di esserci due ragazzi, ci sono due ragazze. Per il resto è pressoché identica. Da uno Yuri passiamo a un Boys Love con l'annuncio di Pink Heart Jam, una serie drammatica ma anche musicale. Il nostro protagonista è un giovane ragazzo che si è appena trasferito a Shunjuku dalla periferia di Tokyo. Non ha ancora ben chiaro il suo orientamento sessuale. Pertanto, per fugare ogni dubbio, cerca di capire qualcosa in più di se stesso facendo un salto all'interno di un famoso locale del quartiere. In quel luogo si verificherà un incontro che gli schiarirà completamente le idee e toglierà di mezzo ogni dubbio su quello che vuole realmente dalla propria vita. La serie sarà composta da soltanto due numeri e dovrebbe debuttare anche in questo caso il prossimo inverno. Ultimo titolo che ci viene presentato nella seconda giornata di annunci è Era destino che ti incontrassi. Una serie shoujo ancora in corso, tre volumi soltanto pubblicati fino ad adesso e che arriverà sempre il prossimo inverno. Non è la prima opera di questa autrice ma è la prima ad arrivare qua da noi in Italia. Ci troveremo a seguire le vicende di Honda, una studentessa universitaria che da poco si è trasferita in città da un paesino di campagna. Per la prima volta dovrà vivere da sola, è una ragazza sognatrice e pertanto è alla ricerca del vero amore. Tutta la sua vita subirà un drastico cambiamento quando la sua migliore amica la convince ad accompagnarla in un nuovo quanto strano posto. L'ultima giornata di annunci invece ha portato soltanto due nuovi titoli e partiamo con la nuova edizione di Mermaid Melody. Da quel che ho capito sarà un qualcosa di leggermente diverso dalla versione animata che è stata distribuita da Mediaset qualche anno fa. Quest'edizione sarà formata da tre volumoni belli grandi addetta dello staff di Star Comics e riporcorrerà gli eventi della prima stagione dell'anime. Si tratta di un gruppo di principesse sirene che lasciate i propri regni e prese le sembianze umane dovranno combattere un potente nemico per proteggere le perle a loro molto care. La loro arma principale per combattere per sconfiggere chi gli si parerà davanti sarà molto semplicemente il canto. L'ultimo titolo che dobbiamo andare a vedere di Star Comics è invece Crucis X uno shonen drammatico e psicologico che conta attualmente dieci volumi usciti ed è ancora in corso. Una storia di pura vendetta un giovane ragazzo infatti viene maltrattato e bullizzato dai compagni di classe che gli rendono una vita un inferno. Lui cerca di consolarsi con la propria famiglia che è la cosa più importante che ha e soprattutto con la presenza del suo amato fratello ma i suoi aguzzini non contenti delle torture riservate a lui decidono di uccidere tutta la sua famiglia portandogli via così tutto quello che ha. A quel punto dopo aver veramente perso tutto in lui scatta una scintilla d'odio e si trasforma in una macchina vendicativa. Tra scene splatter uccisioni e giochi psicologici dovrà riuscire a vendicarsi di coloro che in poco tempo gli hanno portato via tutto ciò che di più caro aveva al mondo. Sono stati fatti due annunci anche per quanto riguarda In Your Face Comics e come ormai siamo abituati da questa casa editrice sono due titoli in pieno genere horror. Il primo è Il labirinto dei rasoi un volume unico di Jun Naiami in uscita a luglio 2023. Sarà composto da dieci capitoli un volume unico in dieci capitoli che raccolgono alcune delle più importanti storie dell'autore andranno a toccare svariati temi passando dal dramma della violenza sessuale all'horror un pochettino più puro e fantascientifico. Il secondo titolo annunciato è invece Suburbanel si tratta sempre di un volume unico ma stavolta l'autore è Taro Canafuro ma anche in questo caso comunque ciò che andremo a trovare all'interno del volume sarà una raccolta di storie autoconclusive di quest'autore. Il tema principale è quello che è il filo conduttore di tutti i racconti che ci sono stati proposti sarà la psicologia umana nella sua forma più crudele e spietata e che porterà anche la natura legata a certe persone ad assumere un aspetto decisamente raccapricciante. Tre annunci anche per Manga Senpai sono tre volumi unici dello stesso autore e tutti a tema Boys Love l'autore in questione è Atsuko Yusen e il primo titolo di cui andiamo a parlare è This Wonderful Season With You un manga scolastico e sentimentale che ci porterà nella vita di Enoki un giovane ragazzo che apparentemente sembrerebbe il classico stereotipo del ragazzino nerd magro basso occhiali e difficoltà nell'instaurare rapporti sociali con i suoi coetanei un giorno incontrerà Shirataki ex membro del club di basket e che all'apparenza sembrerebbe il suo esatto posto alto muscoloso sportivo e socievole nonostante ciò tra di loro sembra nascere una bellissima amicizia che con il passare del tempo potrebbe anche sfociare in qualcosa di un pochettino più profondo il secondo titolo che è stato annunciato è Dekoboko Sugar Days sempre sul genere scolastico e sentimentale ma questa volta la trama è incentrata su un rapporto di amicizia tra i due protagonisti fin dalla tenerissima età crescendo naturalmente i due ragazzi cambieranno aspetto dovranno compiere delle scelte importanti per il corso della loro vita ma c'è una cosa che sicuramente non è mai cambiata e forse non cambierà mai ovvero i sentimenti che prova Yujiro per il suo amico Rui dovrà semplicemente trovare il coraggio di aprirgli il proprio cuore e confessare quello che prova prima che ovviamente sia troppo tardi l'ultimo titolo annunciato da manga senpai è Dekoboko Bittersweet Days il sequel del precedente che diciamo che un po' ci spoilerà con la sua semplice esistenza come potrebbe in realtà andare a concludersi il volume di cui abbiamo appena parlato in ogni caso questo titolo questo volume seguirà ancora le vicende dei nostri due amici che abbiamo visto in precedenza mettendo in risalto la morale che non è sempre tutto rose e fiori riusciranno comunque a stare insieme nonostante gli ostacoli che gli si pareranno davanti oppure questi ostacoli cercheranno riusciranno a dividerli e fargli ripercorrere a ognuno la propria strada lo scopriremo soltanto leggendo entrambi questi due volumi annunciati da manga senpai arriviamo ora a parlare degli annunci fatti invece da jpop e un po' ci aspettavamo questo primo annuncio si tratta infatti di Blue Giant Explorer sequel del manga musicale approdato in Italia nel corso dello scorso anno e anche in questo caso i volumi totali saranno 5 nello stesso identico formato nel quale è stata presentata la prima serie continueremo dunque a seguire le vicende del sassofonista giapponese Dai Miyamoto ma questa volta lo troveremo in un ambiente completamente diverso all'esterno dei confini nipponici e come in ogni fiera non può mancare un annuncio riguardante lo Samushi Collection la quale andrà ad arricchirsi con un vero pezzo di storia la guida al manga contenente varie informazioni sulle tecniche per creare un manga scritta in prima persona da colui che ancora oggi viene ricordato come appunto il dio dei manga utile sia al lettore per comprendere qualcosina in più sull'autore stesso ma anche sulla stesura dei volumi in generale ma utile sicuramente anche alle generazioni successive a Tezuka per creare i propri titoli di successo con alla base la testimonianza di colui che forse è stato il più grande di tutti i tempi troviamo poi My Husband is Sleeping in the Freezer un volume unico Yosei drammatico e psicologico che vede una donna innamorata follemente del proprio uomo e che finalmente realizza il desiderio di sposarsi sfortunatamente però non tutto è come sembra e infatti dopo il matrimonio l'atteggiamento del marito cambia radicalmente e lei si trova a subire delle continue violenze fino a quando dopo essersi ormai dopo essere arrivata ormai all'esasperazione decide di uccidere il marito e di nascondere il cadavere all'interno del congelatore ma qualcosa è pronto dietro l'angolo per sconvolgere e scombinare i piani della giovane donna impedendo le forze di raggiungere il proprio obiettivo e ora ci troviamo a parlare di un'autrice che personalmente ho adorato follemente grazie alla sua precedente opera arrivata in Italia ovvero Casane e sto parlando di Daruma Mazzura e la sua nuova opera che è stata annunciata invece si tratta di The Steel of Sun and Moon attualmente la serie conta 6 volumi ma è ancora in corso in quest'opera si abbandona il teatro la recitazione e la continua ricerca della bellezza tema principale della sua opera precedente e iniziamo invece a seguire le vicende di un samurai che non riesce neanche a brandire la propria spada un giorno verrà attaccato da alcuni malviventi e nel momento stesso in cui decide di accettare del proprio destino che decide di abbandonarsi alla morte riceverà un'inaspettata proposta di matrimonio da una donna sconosciuta tanto quanto misteriosa l'autrice ci ha comunque abituato a molto espressionismo all'interno delle sue opere e soprattutto alcuni colpi di scena completamente inaspettati e di conseguenza mi aspetto anche molto da quest'opera ho delle grosse aspettative da quello che può provenire dalla mente della Mazzura arriviamo ora al secondo giorno di annunci anche per quanto riguarda J-pop e iniziamo da Skip & Lofer il seinen scolastico e sentimentale composto attualmente da otto volumi e con un anime già presente su Crunchyroll parlerà di una giovane ragazza con un grande obiettivo ovvero quello di lasciare la sua piccola città per frequentare un'università prestigiosa e fare in modo di essere in prima linea nel dare un contributo importante alla crescita del paese quello però di cui non si rende conto sono tutti i suoi limiti infatti l'ineguatezza di affrontare determinate situazioni a cui non era abituata spesso procura alcuni dispiaceri a parenti ed amici Mitsumi dovrà imparare a vivere in una grande metropoli come Tokyo prima di inseguire i propri sogni cercando così di non dare troppe preoccupazioni ma riuscire a vivere più serenamente comunque continuando ad avere nascosto in un angolino il suo sogno nel cassetto anche per quanto riguarda J-pop è stato annunciato un boys love sentimentale che si tratta di Touching Your Night un volume unico che ci mostrerà una famiglia di assassini nella quale vive Chinatsu la pecora nera della famiglia se così possiamo dire colui che non è mai stato in grado di compiere il proprio dovere non ha mai commesso un omicidio non ha mai portato a termine un vero lavoro a causa di uno shock subito da piccolo quando vide suo fratello maggiore morire nella memoria del ragazzo però è impressa una mano di un ragazzo cieco tensa verso di lui in segno di aiuto non ha mai smesso di cercare il proprietario di quella mano e una volta che riuscirà a trovarlo sicuramente il loro destino potrà cambiare per sempre il prossimo titolo è in realtà una raccolta di sette capitoli autoconclusivi dell'autrice esordiente Aya Fumino il titolo dell'opera sarà Noroi to Seishun e i racconti spazieranno per i generi più disparati all'interno potremo infatti trovare delle storie drammatiche sentimentali ma comunque tutte avranno un unico filo conduttore ovvero lo slice of life in tutti i capitoli in tutti questi racconti troveremo infatti delle storie di vita ordinaria quotidianità della persona di ognuno di noi senza nulla di fantascientifico o completamente irreale l'ultimo titolo annunciato da J-pop è uno shoujo si tratta di A Girl and Guard Dog di Atsuaru otto volumi attualmente pubblicati serie ancora in corso e vedremo Isaku Senagaki la protagonista di questa storia pronta ad iniziare il liceo lei proviene da una famiglia molto conosciuta nel quartiere in quanto suo nonno è a capo di un gruppo di Yakuza lei è molto impassidita da questa situazione e spera che l'ingresso nella nuova scuola lontana da casa le permetterà di fare nuove amicizie e perché no magari trovare anche un nuovo amore quello che però non sa è che ci sarà un giovane Yakuza appartenente al clan del nonno che si farà ammettere nella sua stessa scuola sotto falsa identità per controllarla non sapendo che Isaku la nostra protagonista provi da tempo dei forti sentimenti proprio nei suoi confronti l'ultimo giorno un po' sorpresa sono arrivati anche ulteriori annunci da parte di J-pop infatti nel pomeriggio iniziamo con The War of Greedy Witches l'ennesima serie ispirata a Record of Ragnarok e per l'ennesima volta lo capiamo già soltanto guardando la copertina del primo volume in questo caso a salire sul ring saranno esclusivamente dei personaggi storici femminili tra i quali troveremo Giovanna d'Arco Cleopatra e Maria Antonietta le partecipanti ammesse a questo super mega torneo saranno ben 32 quindi gli scontri saranno veramente tantissimi e la serie secondo me potrebbe anche diventare abbastanza lunga detto questo forse un pochettino questa tiritera del ring combattere due personaggi famosi eccetera eccetera sta iniziando un filino a stupare secondo titolo annunciato l'ultimo giorno è The Danger in My Heart sono 8 volumi la serie è ancora in corso e si tratta di uno shonen scolastico basato principalmente sul carattere del nostro protagonista a Chiotaro un ragazzo che appartiene alla casta più bassa della scuola quindi viene considerato un po' tutti come peccia quasi ma lui nasconde un enorme segreto dentro di sé infatti ha un profondo istinto omicida che ogni tanto prende sopravvento e non si sa mai che cosa potrebbe combinare non sappiamo i periodi di uscita di tutti questi titoli che vi sto comunicando ora quelli annunciati l'ultimo giorno ma teotnicamente dovrebbero comunque essere tra fine 2023 massimo inizio 2024 ora arrivano due titoli dedicati al maestro dell'horror ovvero Junji Ito il primo è Twisted Vision The Art of Junji Ito come possiamo intuire dal titolo si tratta di un artbook dedicato all'autore e che contiene al suo interno alcune delle tavole più rappresentative presenti nelle sue opere più conosciute come Tomie o Uzumaki questo peccato che non sappiamo ancora quando uscirà perché sarebbe una notizia che sono sicuro che molti di voi vorrebbero sapere vi posso dire che su Amazon trovate già le versioni estere il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 euro se mantengono formato e qualità uguali a quelli che sono stati pubblicati in Francia e in Inghilterra l'altro titolo sempre dedicato a Junji Ito è invece Bukimino Hana un saggio autobiografico in questo caso quindi non un vero e proprio manga del maestro dell'horror in cui ci racconta in prima persona le fonti di ispirazioni a cui appunto ha attinto per scrivere i suoi lavori più celebri e come ha deciso di creare i terrificanti manga che però sono stati anche in grado di stregare il mondo intero e l'ultimo titolo l'ho tenuto alla fine sia perché è stato anche effettivamente l'ultimo ad essere annunciato ma anche un po' perché è quello che probabilmente secondo me vince il premio come miglior annuncio di questo Comic Con e sto parlando di Akane Banashi un 5 volumi serie in corso attualmente si tratta di un manga che effettivamente ci propone un qualcosa di nuovo una qualità che secondo me negli ultimi titoli usciti era veramente veramente difficile da trovare e per questo io sono veramente contento di questo annuncio si tratta di uno Shonen Slice of Life basato sul Rakugo un genere teatrale giapponese nel quale il narratore attraverso un monologo ma soprattutto grazie alle sue espressioni facciali e alle movenze deve riuscire ad ipnotizzare il pubblico facendolo completamente pendere dalle proprie labbra la storia seguirà le vicende di una giovane ragazza che decide di dedicarsi anima e corpo a questo metodo recitativo seguendo le orme del padre che purtroppo ha fallito cercando di avere una carriera vera e propria lavorativa all'interno di questo mondo durante il corto del comic-con sono stati fatti due annunci anche da parte di Giundo il primo che troviamo è Taozan Dai Carp ed è un maoa cinese composto da soli 26 capitoli che ha fatto il suo debutto nel corso dello scorso anno la protagonista non è la classica ragazza umana ma bensì una creatura leggendaria come la carpa dei mille occhi una creatura che a memoria d'uomo è sempre vissuta e probabilmente vivrà per sempre il suo obiettivo però è quello di lasciare questo mondo ma ogni tentativo che farà per arrivare a questo obiettivo verrà fermato da qualche essere umano ormai rassegnata all'idea di dover vivere per sempre decide dunque di provare ad integrarsi e coesistere con la società umana l'altro titolo annunciato sempre d'aggiunto è invece Checkmate Capture My Earth si tratta nuovamente di un maoa cinese ma stavolta si parla di un Boys Love sono 51 i capitoli che completeranno quest'opera e parla di un amore tra due colleghi che però non riescono a dichiararsi l'un l'altro nonostante l'amore effettivamente sia reciproco fortunatamente in loro soccorso verranno le rispettive sorelle una è una scrittrice appunto di Boys Love mentre l'altra una lettrice dello stesso genere sfruttando le loro conoscenze nell'ambito daranno dei preziosi consigli affinché i due ragazzi trovino il coraggio di fare il passo decisivo e far nascere così ufficialmente una relazione che tra i due evidentemente è destinata a nascere una relazione che sognano entrambi l'ultima casa editrice di cui dobbiamo parlare l'ultima che ha fatto degli annunci durante il corso del comicon è Saldapress con tre titoli annunciati con questi annunci Saldapress allarga il suo catalogo manga anche al di fuori della collana mangaka e iniziamo con Alice e Zoroku un seinen soprannaturale composto attualmente da dieci volumi ma ancora in corso parla di un gruppo di ragazzine dotate di un potere a quanto singolare riescono infatti a trasformare in realtà tutto ciò che immaginano naturalmente vengono utilizzate principalmente come fonte di ricerca ma un giorno una di loro riuscirà a fuggire dai laboratori nei quali vengono svolte alcuni esperimenti su di loro e incontrerà l'anziano Zoroku il quale detesta tutto ciò che si intromette e disturba la sua pacifica quotidianità l'uscita di questo titolo è prevista per settembre secondo titolo annunciato è kumakumakumabir in uscita sempre a settembre con all'attivo 9 volumi e in questo caso è ancora in corso si tratta di uno Yuri Fantasy che ci mostrarà una ragazzina divenuta straricca giocando al primo VRMMO del mondo resterà chiusa in casa a giocare per tutto il giorno tralasciando amicizie e non andandone anche a scuola il problema sussiste al momento in cui ci sarà il nuovo aggiornamento del gioco e infatti accade qualcosa di strano riceve un costume da orso fin troppo imbarazzante da indossare persino all'interno del gioco ma il destino la obbliguerà in pratica ad indossare questo costume e la partita continuerà diciamo in una foresta sconosciuta arriverà una email che la invita ad iniziare una nuova vita all'interno di questo nuovo mondo ma la cosa più preoccupante e più strana è il mittente della mail si tratta infatti di Dio l'ultimo titolo annunciato è Theogonia uno shonen fantasy composto anche in questo caso da nove volumi ancora serie in corso nuovamente si tratta di una storia fantasy ma stavolta ci troviamo davanti ad una sanguinosa guerra combattuta tra gli esseri umani e delle creature con un aspetto diciamo semi-umane in un pezzo di terra conosciuto come terre di confine il nostro protagonista Kai subirà un brutto infortunio il dal quale al risveglio riuscirà a far riaffiorare alcuni ricordi di una vita passata si renderà così conto delle regole ingiuste che dominano il mondo e combatterà proprio anche per sconfiggere queste leggi si renderà anche conto di un'altra cosa importante ovvero quella che chi è senza una divinità protettrice dovrà combattere costantemente per la propria sopravvivenza e siamo giunti alla fine di questo video abbiamo visto ben 34 annunci spalmati tra varie case editrici ora naturalmente vi devo chiedere se siete contenti di questi annunci se avete trovato un qualcosa di vostro interesse fra tutto ciò che è stato annunciato negli scorsi giorni per quanto mi riguarda così a caldo vi posso dire che sono naturalmente contentissimo come ho detto in precedenza di Akane Banashi probabilmente era un titolo che attendevo molto e che non vedo l'ora di leggere in cartaceo detto questo il continuo di Blue Giant non può che farmi piacere e anche le riedizioni sia di Aria e sia per quanto riguarda Aula alla Deriva naturalmente mi ispirano veramente tantissimo entrambi però qua e là sicuramente qualche altra serie poi andando ad approfondire un po' di più la questione la nuova della Mazzura sicuramente l'autrice di di Casane ora che mi ci sto pensando e tante altre cose qualcosa di carino in mezzo alla massa secondo me si può trovare ma fatemi sapere quali sono invece i vostri idoli preferiti tra tutti quelli di cui abbiamo parlato all'interno di questo video io vi mando un abbraccio grandissimo vi ringrazio di cuore per averlo guardato e spero soprattutto che vi sia stato utile naturalmente io l'unica cosa che vi chiedo è di lasciare un like e di iscrivervi al canale per voi un gesto completamente gratuito per me il supporto più grande che mi possiate dare vi augurandovi una buona serata noi ci sentiamo al prossimo video ciao a tutti